dicevamo piano gioco regolamentare con le sponde rialzate e quindi angoli rialzati per una continuità di gioco le aste che arriveranno con gli omini già montati quindi è una cosa molto importante perché oltre ad avere una qualità sul singolo omino in quanto l'omino viene fuso attorno alla stecca non ci sono le viti al petto quindi nel tempo l'omino non si all'intera mai ma da fabbrica vengono pressofusi attorno all'asta è un lavoro in meno da fare quando ricevete anche il prodotto perché l'asta arriva praticamente pronta con le molle già montate dovranno solamente essere infilate all'interno della sponda con i fori già effettuati